Sarà un fine settimana quello dell'1 e il 2 dicembre ricco di appuntamenti ed iniziative nella città di Fano. Il centro storico ormai tutto addobbato nel minimo particolare per vivere l'emozione del Natale. La via dei presepi, presepi interamente di sabbia, mercatini natalizi nelle casette in legno, l'albero tradizionale ricco di luci e numerose iniziative renderanno la città fanese un vero e proprio contenitore di eventi. Intanto gli organizzatori danno appuntamento a tutta la cittadinanza a tre grandi momenti da non perdere. Sabato 1 dicembre alle ore 17 l'inaugurazione della pista del ghiaccio, anzi mezz'ora gratis per tutti, quindi chi ne vuole approfittare per assaggiare com'è la pista può venire perché abbiamo quella mezz'ora per poter pattinare e alle ore 18 la via dei ciliegi dei bambini accenderà l'albero del signore Seri. Anche lì con un bello spettacolo ci saranno tanti bambini a cantare sotto l'albero, quindi due appuntamenti da non perdere. Domenica 2 alle ore 18, partecipate in tanti perché ci sarà un magnifico spettacolo realizzato insieme ad Ultrasound Eventi, è tre anni che ci appoggia in questa grande inaugurazione, quest'anno ancora più bello, quindi l'albero prenderà vita, si accenderà delle migliaia di luci e led che gli abbiamo installato, ma non solo perché ci saranno tante suggestioni in uno spettacolo davvero emozionante, quindi domenica 2 dicembre ore 18.